Profilo sinistro, un sorriso. No, davanti, però il sorriso lo devi guardare qua davanti, poi il testo guarda qua. Ma no, non è che voi questa coppia baffetta la sfasciate invece di aggiustarla. Ma sta bruciando a tutti quanti. Aiuto, aiuto, mi hanno sequestrato. Aspetta. Eh? Aiuto, mi hanno sequestrato, hai saltato la coppia. Ho, 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 ho.